Ed eccoci di nuovo live sulle fonti tv per questo terzo appuntamento con la nostra asset management tv week, una settimana interamente dedicata ai temi del rispalmio gestito. Abbiamo visto nei due appuntamenti precedenti una panoramica di mercato, insomma come si inseriscono poi gli investimenti all'interno di un quadro molto complesso, quello attuale caratterizzato da un'estrema incertezza ed estrema volatilità. Ieri invece ci siamo concentrati sui finanziamenti sostenibili, oggi il focus cambia perché parleremo dei trend e dei settori che stanno dettando le regole dell'asset management e che si prospettano insomma come i nuovi re. Visto che abbiamo utilizzato la metafora in questi giorni della giungla, una giungla in cui è difficile anche trovare dei nuovi punti di riferimento. Ne parleremo con gli ospiti che mi hanno raggiunto in studio, ovvero Alessandro Arrighi, Head of Retail Distributors Italy, GAM. Benvenuto e grazie per essere qui con noi. Buongiorno. E poi ancora Antonio Volpe, Head of External Distribution a Mundi. Grazie, grazie a voi per l'invito. Grazie a lei, grazie a lei per la partecipazione. Ecco, iniziamo appunto dal dottor Volpe, parliamo di un tema di grande interesse in questa introduzione, in questa apertura di tavola rotonda che è quella della transizione energetica. Beh, è un problema che, diciamo, detta anche un po' l'agenda economica non solo del nuovo governo ma direi di tutte le amministrazioni a livello sicuramente europeo, visto quello che sta succedendo nel conflitto internazionale in Ucraina. Un conflitto che ha accelerato appunto a causa della crisi energetica questa necessità, questa urgenza della transizione. A che punto siamo innanzitutto? Beh, allora direi, facciamo qualche passo indietro di qualche anno. Tutto parte, come sappiamo, dalla COP21 di Parigi dove per la prima volta vengono dati dei numeri e anche scientificamente la comunità scientifica ci dà degli input importanti, il famoso 1,5 gradi all'interno del quale dobbiamo essere per evitare grossi problemi per il nostro pianeta. Poi ci sono stati tutta una serie di interventi da parte delle istituzioni, in particolare proprio delle istituzioni europee, fino ad arrivare, secondo me, a un altro punto cruciale, importantissimo, cioè l'agenda per arrivare, per, diciamo, traghettare, traghettarci verso la net zero economy e quindi con l'obiettivo della comunità del 2050. Quindi, poi diciamo che la crisi energetica sta un po' non fermando, ma accelerando questo processo. Ci stiamo rendendo conto che dobbiamo far qualcosa, soprattutto in Europa, perché poi l'Europa è priva di materie prime, quindi deve agire e agire in fretta. Un numero, secondo me, molto importante è il numero riguardo al fabbisogno energetico, oggi a livello mondiale, come viene coperto. Oggi l'80% del fabbisogno mondiale è ancora coperto da combustibili fossili, quindi sostanze clima alteranti, mentre solo il 20% è coperto da energie rinnovabili, per lo più eolico e solare. Bene, questo 80-20 per arrivare al famoso net zero del 2050 dobbiamo completamente ribartarlo in 20-80. Quindi è questo uno dei principali obiettivi da raggiungere, anche con una politica energetica europea comune. Il primo passo è sicuramente il price cap al gas, o meglio il corridoio che è stato appena approvato, ma bisogna andare in questa direzione, da 80-20 a 20-80. Ecco, sì, insomma, diciamo che il contesto internazionale attuale non ha fatto che accelerare appunto un'esigenza che si è manifestata già nel passato, possiamo dire appunto già attorno alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, che adesso è diventata davvero urgente. E beh, lei tra l'altro poi ha parlato della necessità anche di un accordo europeo su questo tema, che è veramente importante, anche se lo sappiamo quanto è difficile mettere d'accordo, diciamo, le teste e soprattutto gli interessi di 27 paesi diversi. Ci torneremo naturalmente sulla questione energetica, ma i trend, i settori che dettano legge nell'asset management sono diversi, sono molto vari. Beh, c'è anche quello del lusso, dottora Righi, e ci concentriamo ecco proprio su questa tematica. Io però, ecco, prima di addentrarmi vorrei snocciolare qualche dato, perché il settore del lusso si inserisce, lo abbiamo detto, in un quadro particolarmente complesso. Torno sulle cifre fresche che ha dato il Fondo Monetario Internazionale e non di certo confortanti per le stime di crescita del 2023. Non confortanti soprattutto per il nostro continente. È prevista una crescita solamente dello 0,5%, gli Stati Uniti 1%, la Cina che invece si salva in un certo senso, mantenendo comunque una previsione di crescita del 4%. A tutto questo dobbiamo aggiungere il problema dell'infrazione. Lo sappiamo in Europa ha toccato in diversi paesi la doppia cifra, in Italia siamo all'8,9%. Ecco, un quadro che definire complesso e poco forse è anche un po' spaventoso. E come si inserisce un settore particolare come quello del lusso in un contesto di profonda crisi economica? Il settore del lusso risponde a stimoli che forse non hanno molto a che vedere con la razionalità e quindi diventa un punto di forza. Sicuramente l'aumento dell'inflazione, il fatto che comunque anche l'inflazione core sia salita e che per ora le previsioni portano a vedere una riduzione, un rallentamento o un ritorno verso un target un po' più di normalità che stiamo stimando intorno al 3,5-4%, fa sì che molti settori a livello di consumi verranno impattati. Sicuramente i consumi di base, i consumi discrezionari, ma il tema del lusso ha delle opportunità che sono dettate da altri fattori. Intanto stiamo parlando di un settore che pesa 300 miliardi di dollari di fatturato, quindi un settore in crescita, negli ultimi dieci anni è più che raddoppiato i volumi che riguardano questo settore. C'è un fattore qualitativo, nel senso che oggi non basta avere un brand alla moda per considerarlo di lusso, ci vogliono decenni per creare un brand di lusso e quindi che possa poi confermarsi come market share nel suo settore d'attività e è un settore che si sta allargando tantissimo. Quindi non è più solo l'alta giolleria, l'alta moda, l'alta orologeria come lo conoscevamo 50 anni fa, oggi è un settore che diventa sempre più trasversale e che ha due fonti principali di crescita. Da una parte i giovani, che rappresentano il 70% dei consumatori nel settore del lusso, dall'altra parte, scuso, uso un termo un po' banale, ma i nuovi ricchi, cioè io considero chi ha capacità di spesa e quindi chi arriva a fine mese tolto quelli che sono i beni di prima necessità e la salute. Quindi da lì si creano oggi degli stimoli per andare a cercare alcuni brand, delle icone che in qualche modo vanno, come dicevo all'inizio, a rispondere a un bisogno che non è assolutamente razionale, un bisogno psicologico, un bisogno di benessere proprio, di un benessere economico, di un benessere sociale. E quindi questo consente al settore, ovviamente essendo aziende cotate, di risentire di quello che è eventuale un momento di difficoltà, come abbiamo visto sui mercati soprattutto dall'inizio dell'anno, ma che consente anche di avere maggior tenuta, si usa molto il termine resilienza, ma diciamo una maggior tenuta e soprattutto una buona capacità di recupero nel momento in cui torna un po' di ottimismo. Quindi oggi il settore del lusso è un settore che non ha scadenza, che permette di andare oltre il consueto orizzonte temporale dei 3-6 mesi e di aspettare cosa succederà a livello macroeconomico, perché lo stimolo al consumo segue altre logiche, altre necessità. Ecco, logiche insomma psicologiche, possiamo anche così definirle, motive al di là appunto poi della situazione contingente e dei numeri con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. Ecco, torniamo invece con il dottor Borpe alla questione energetica, in particolar modo all'idrogeno, perché appunto già alla fine degli anni 90 l'idrogeno era stato identificato come una fonte di energia alternativa, sfruttabile, adoperabile e questo processo, lo abbiamo detto, si è accelerato insomma negli ultimi tempi. Ecco, secondo lei perché puntare all'idrogeno può essere effettivamente una buona risorsa in termini di energie alternative? Allora, la risposta è sicuramente affermativa. Ritorno all'80-20 di cui parlavo prima. Dobbiamo incrementare l'utilizzo delle energie rinnovabili, principalmente oggi parliamo di eolico e solare. Quindi l'idrogeno può dare un grosso contributo in termini di diversificazione all'interno delle energie rinnovabili. C'è però da dire che l'idrogeno non è tutto uguale. L'idrogeno prodotto fino ad oggi è un idrogeno sporco, tra virgolette, cioè produce comunque CO2 perché si parte spesso e volentieri da sostanze climaalteranti. Ad esempio si parte dal metano, si scompone e quindi si ottiene sì l'idrogeno, ma producendo anche del CO2. Quando quindi parliamo di idrogeno il processo deve essere estremamente pulito con emissioni zero e quindi parliamo di idrogeno verde. L'idrogeno verde si ricava partendo dall'acqua, quindi da H2O, e utilizzando per l'ascissione molecolare un processo che viene innescato sì sempre da energia elettrica, ma energia proveniente da rinnovabili, e quindi da solare e eolico. Quindi si capisce che tutto il processo è green, è completamente verde, a zero emissioni. E in più arriviamo a una sostanza che ha comunque un alto contenuto energetico, superiore appunto a tante sostanze climaalteranti, un'energia pulita, trasportabile e versatile. Quindi soprattutto è stoccabile e si può trasportare. Questo non avviene per tutte le energie rinnovabili. Quindi sicuramente avrà un ruolo importantissimo nella transizione e nel dare un grosso contributo alle energie rinnovabili. Sì, ne abbiamo bisogno proprio in questo momento. Si è parlato dell'utilizzo delle energie rinnovabili, molto spesso, inevitabilmente, e sottolineando anche quanto in realtà il nostro paese, rispetto ad altri paesi europei, sia un po' indietro proprio in questo processo evolutivo. E come ha sottolineato, l'idrogeno fornisce anche questo duplice vantaggio, perché è anche un processo, come dice, di trasformazione green rispetto ad altri tipi di energia, perché si parla molto spesso in questo momento anche di un ritorno al carbone, addirittura al nucleare, con però tutte le problematiche connesse a questi tipi di fonti alternative. Con il dottor Arrighi, invece, ritorniamo ancora a parlare del lusso di questa parentesi, un po' d'oro rispetto al contesto, un'oasi quasi, rispetto ad una situazione, come abbiamo detto, complicata. Ritorniamo ai dati che avevo enunciato prima sulla varia distribuzione della crescita a livello globale con una Cina che rispetto al continente europeo sicuramente è privilegiata. Allora, guardiamo naturalmente le prospettive future, il 2023. Ecco, questo potrebbe rendere la Cina un mercato particolarmente favorevole per il lusso? Beh, la Cina lo è già, ma lo è già l'Asia di per sé. Oggi, quando consideriamo l'Asia, facciamo Egg Japan, nel senso che il Giappone è più visto come un paese quasi vecchio, sia per l'età media della popolazione, perché è il primo paese sopra dell'Italia per l'età media della popolazione, ma anche perché è un paese che ha cominciato a consumare molto prima rispetto alla Cina e quindi oggi, come in Europa, non dico che c'è un contributo negativo, ma diciamo che nella lista delle cose da avere per sentirsi socialmente appagato in termini di posizionamento sui brand di lusso e su una qualità della vita alta, il Giappone è alla pari dell'Europa e degli Stati Uniti. Mentre invece l'Asia, dove andiamo a considerare la Cina preponderante e le ex tigre asiatiche, è un mercato in forte espansione. Pensiamo che oggi il 65% dei consumi arriva dall'Asia e la metà, cioè di questo 65%, quasi i tre quarti, arriva dalla Cina. Bisogna tenere conto di due fattori. Una domanda inelastica, nel senso che è più la domanda dell'offerta e quindi oggi le aziende che hanno sul brand di lusso hanno una capacità di scaricare sul cliente finale i costi di materie prime, l'inflazione e eventualmente difficoltà strutturali legate per esempio al lockdown e la difficoltà di approvvigionamento. Basta pensare che Vuitton ha aumentato del 20% i prezzi negli ultimi due anni e quindi non si è fatto nessun scrupolo a fronte di una difficoltà economica a rincarare i propri prezzi per sostenere quello che è l'impatto dell'inflazione. Dall'altra parte abbiamo una politica cinese che va a sostenere quello che può essere l'espansione sul tema del lusso proprio perché il programma del governo cinese vede una maggior ridistribuzione della ricchezza. Bisogna sempre tener conto che il lusso funziona laddove non c'è l'indice Gini quindi che stabilisce la democratizzazione della ricchezza più l'indice vicino all'uno vuol dire che ho un oligarca per non fare nessun riferimento e tanti poveri dove invece ho il numero tendente allo zero ho tanti miliardari o tanti ricchi. Basta pensare che in Cina nel 2021 sono stati censiti mille miliardari in dollari per un controvalore di 4 mila miliardi di patrimonio. Questo era il modello che Xi Jinping voleva negli ultimi dieci anni che ha voluto il governo cinese per dare un esempio da seguire oggi la lettura è diversa dice tutti devono poter accedere al benessere questo vuol dire che c'è una spinta e un'aspettativa di crescere della classe media molto forte dove vedremo da qui al 2030 paesi come l'Indonesia arrivare al quarto posto a livello mondiale come posizionamento della classe media basta pensare che nel 2021 la Corea ha praticamente raddoppiato i consumi rispetto a quelli giapponesi pur essendo un quarto della popolazione giapponese quindi cosa vuol dire? Vuol dire che la Cina in primis ma tutto il sud-est asiatico oggi è un motore molto forte che esula quasi dal contesto macroeconomico perché come dicevo all'inizio la lista della spesa sulla quality la way of life cioè il modello occidentale di tutto quello che devo avere per sentirmi parte di un mondo sociale è il primo stimolo per chi non ha problemi arrivare a fine mese. Certo, lei tra l'altro ha citato appunto nella sua spiegazione anche la visione a lungo termine di Xi Jinping tra l'altro veniamo da una settimana molto importante per la Cina perché si è celebrato il congresso del Partito Comunista e l'abbiamo sentite e analizzate anche le parole di Xi Jinping che addirittura vede una Cina come il nuovo leader a livello globale e mondiale entro il 2050 non solo dal punto di vista economico ma anche da quello scientifico tecnologico, culturale però è interessante sottolineare come questo primato in realtà muova i passi sulle orme appunto di quello precedente cioè di quello occidentale quindi questa corsa ad eguagliare i maestri possiamo così definirli anche se appunto con una visione diversa che si adatti poi anche al contesto asiatico questo sicuramente è molto interessante ecco in questo continuo ping pong diciamo così tra settori e trend profondamente differenti ripartiamo dal dottor Volpe ancora sulla questione dell'idrogeno perché abbiamo capito insomma che voi Diamundi sicuramente ci credete molto ci puntate molto per il futuro le chiedo innanzitutto se ci troviamo di fronte a un megatrend e poi che cosa vuol dire dal punto di vista degli investitori investire oggi nell'idrogeno sì allora innanzitutto parto dalla seconda domanda e non dalla prima allora la seconda domanda appunto come investire noi crediamo che l'idrogeno sia una vera e propria filiera cioè nel senso che non dobbiamo limitarci ai soli produttori di idrogeno che sono un pezzo della storia ma appunto l'idrogeno avrà un futuro e creerà un'intera filiera filiera che cosa si intende si intende che dobbiamo guardare anche a quelli che sono i distributori di idrogeno piuttosto che gli utilizzatori finali dell'idrogeno faccio un esempio concreto italiano proprio nel 2023 partirà il primo treno a idrogeno in Valcamonica che vede protagonisti tre aziende che sono in eccellenza italiana Ferrovia Nord Milano A2A SNAM Rete Gas per cui che cosa significa questa filiera significa che lì andremo a produrre idrogeno che servirà non solo ad alimentare il primo treno a idrogeno in Italia ma servirà anche ad alimentare quelli che sono degli impianti industriali della Valcamonica per cui questo significa avere anche si traduce nell'avere un universo investibile molto ampio perché si va a lavorare sulle diverse dimensioni di questa filiera principalmente distributori utilizzatori e ovviamente i produttori per quanto riguarda invece la seconda domanda se siamo davanti a Omega 3 non può che essere la mia risposta affermativa ma soprattutto rispondo con una percentuale cioè si stima già che da qui al 2050 il fabbisogno energetico mondiale sarà coperto per il 17% proprio dall'idrogeno quindi insomma è una percentuale che parla da sé assolutamente non è la soluzione a tutti i nostri problemi ma sicuramente è un pezzo del puzzle importante e certo anche perché non c'è un'unica soluzione di fronte al problema energetico ma ci sono soluzioni che arrivano diciamo da elementi differenti e come ha ribadito la percentuale comunque il contributo dell'idrogeno con il suo 17% non è di certo poco è sicuramente ecco un dato significativo con il dottor Arrighi invece ecco chiudiamo la parentesi dedicata al lusso poi parleremo anche di altro naturalmente dell'agroalimentare della tecnologia ma adesso concentriamoci appunto su questa chiusura di questo ecosettore del comparto del lusso abbiamo detto appunto che rappresenta una sorta di piccola isola felice però è anche vero che i consumatori sono anche cambiati inevitabilmente ecco soprattutto nel periodo pandemico post pandemico rispetto a 5 anni fa è cambiato il mondo ed è cambiato anche il comparto di cui lei si interessa ecco quali sono all'interno del settore del lusso i comparti che hanno reagito meglio e che stanno approfittando meglio di questo momento innanzitutto gli ultimi dati che abbiamo oggi a disposizione per esempio parlano del turismo del mondo del benessere in generale che può essere l'ospitalità che può essere il mondo della ristorazione che può essere ovviamente il mondo dei viaggi basta pensare che quest'anno l'Europa ha recepito il 65% di quelle che sono state le spese nel turismo globale quindi abbiamo visto tanti stranieri arrivare in Europa proprio in una fase di spending revenge come l'abbiamo chiamata l'anno scorso cioè la riapertura dei lockdown la frustrazione di limitarsi negli spostamenti negli acquisti anche di non avere la fisicità dell'acquisto stesso ha portato molte persone a volere in qualche modo spendere quello che non era stato possibile nei due anni precedenti e quindi c'è stato un forte contributo da questo punto di vista un altro aspetto importante lo dicevo all'inizio sono i giovani come dicevo oggi i giovani rappresentano il 70% dei consumi nei beni di lusso ma i giovani consumano in modo diverso la prima è una grande attenzione alla sostenibilità ne stiamo parlando i giovani pretendono la trasparenza della filiera produttiva pretendono che ci sia anche un secondo mercato abbiamo visto l'esplosione del mercato dell'usato certificato dai brand stessi Gucci certifica la piattaforma di Fairtex sugli acquisti di seconda mano quindi non stai comprando un tarocco ma stai comprando un prodotto che è scelto da me prodotto da me quindi da questo punto di vista c'è diciamo una richiesta maggiore che è anche per esempio sostenuta dai social basta vedere il numero di follower che ha alcuni brand di lusso che si parlano di milioni di follower basta vedere quindi l'impatto anche del metaverso come nuova fonte il nuovo mercato quindi una nuova frontiera su uno sviluppo ulteriore dei canali di vendita del settore di lusso quindi oggi sicuramente il wellness c'è stato tutto il mondo elettronico digitale parliamo degli NFT per esempio che sono anche qua una nuova frontiera un nuovo tema di consumo quindi tutta la parte tecnologica e poi ci sono ovviamente da un certo punto di vista le partnership che abbiamo visto con brand storici che si alleano con invece brand più giovani per creare nuove tendenze questo permette di andare a accogliere nuova clientela i millennials e come dicevo le generazioni Z permette anche di rispondere su nuovi canali l'online è stato fondamentale nei momenti di lockdown oggi però c'è per esempio la Cina che ha creato delle zone franche senza dazi per permettere di sviluppare anche il turismo interno e i consumi sui brand all'interno del proprio paese quindi evitare la dispersione della ricchezza verso l'estero ma di lasciarla sul proprio mercato favorendo aree di incontro e di spesa ecco dottor Arighi lei ha messo sul banco veramente tante carte diverse sicuramente ci ritorneremo poi sul tema del metaverso dei not fallible token delle criptovalute tutto un universo che abbiamo imparato adesso a conoscere soprattutto è diventato posso dire di moda da quando Mark Zuckerberg ha cambiato la denominazione ecco del gruppo in meta da lì tutti quanti hanno incominciato un po' a rizzare le antenne a dire vabbè ma di che cosa si tratta operazioni di marketing è chiara quella di però assolutamente il metaverso può diventare una grande un grande pilastro non solo tecnologico per il futuro appunto lo affronteremo più tardi e invece volevo tornare anche a una questione che le ha accenato quella del turismo perché l'Italia sicuramente ha la bellezza e il patrimonio naturale e poi anche artistico e no gastronomico per attirare clientela da tutto il mondo abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi estivi il ritorno fortunatamente della clientela internazionale sia europea mi riferisco soprattutto a Inghilterra Germania e poi anche della clientela d'oltreoceano quella statunitense che ha sostituito tra l'altro anche la clientela russa che è stata bloccata insomma lo sappiamo da quali motivazioni quindi interessante ecco questo comparto del lusso che può fare presa insomma su vari settori molto differenti dalla tecnologia al turismo le chiedo quindi ecco se secondo lei può essere un buon driver io mi immagino la risposta per quanto riguarda i portafogli di investimento volevo fare una parentesi perché ha parlato proprio della Russia e vorrei un attimo smontare un mito i russi rappresentano il 3% dei consumi globali quindi in realtà nel settore non è rilevante la situazione russa non mi fra non vuole essere frainteso non il conflitto ucraino ma il fatto che non ci sia più il turismo di un certo livello da parte dei russi perché in realtà era un contributo veramente minimo molto concentrato su alcuni settori e magari in Italia ne risentiamo un po' di più ma in realtà nel contributo complessivo non è insignificante diciamo su larga scala sì scusi se l'interrompo abbiamo invece avuto proprio la percezione che in realtà il contributo ecco che arrivava dai big spender della Russia fosse molto più importante della percentuale che lei ci ha rivelato anche per la non distribuzione diciamo democratica della ricchezza quindi nella scala di numeri un oligarca può comprare uno o due yacht ma più di quello non può fare se io ho mille persone che hanno una certa capacità di spesa diventano un mille yacht e quindi mi cambia la scala questa è un po' è un po' l'idea gli americani avevano risparmiato tantissimo era raddoppiato il risparmio delle famiglie americane durante il lockdown quindi oggi hanno anche una forte capacità di spesa forse magari hanno anche il vantaggio di avere oggi un dollaro forte quindi quando vanno a comprare in euro spendono molto meno per loro e quindi questo è un vantaggio in più nell'andare all'estero sicuramente esatto e dall'altra parte quindi sì è un settore che ha grandissime potenzialità e sicuramente è un asset class che si può avere nei portafogli ripeto proprio leggendolo sul tema dei consumi e sul tema della capacità di spesa quindi non mi limiterei a vederlo come una nicchia ma a vederlo veramente come un tema oggi molto più trasversale ecco perfetto abbiamo parlato quindi approfonditamente di lusso di turismo e un altro settore che sicuramente possiamo dire sulla cresta dell'onda soprattutto negli ultimi anni è quello dell'alimentazione con un'attenzione sempre maggiore per quanto riguarda la qualità e la provenienza anche dei prodotti ecco dottor Volpe le chiedo appunto di diciamo trarre un po' le conclusioni sul settore dell'agroalimentare non solo i trend del presente ma soprattutto anche le prospettive future nel settore agroalimentare intanto appunto noi come italiani preme molto salvaguardare questo settore e anche la qualità che abbiamo comunque in generale il settore agroalimentare risente di almeno tre mega trend il primo inevitabilmente è l'incremento della popolazione mondiale sappiamo tutti che oggi siamo a 7 miliardi e mezzo di persone arriveremo a 10 miliardi nel 2050 e quindi abbiamo un problema di fabbisogno alimentare poi abbiamo un secondo tema e Alessandro un po' ne parlavi del pil pro capite in alcune regioni del mondo che sta aumentando in particolare appunto in Asia e questo ha un impatto anche nel settore agroalimentare e infine il terzo mega trend è che abbiamo sempre più la tendenza ad andare a vivere nei grossi agglomerati urbani e questo cambia tantissimo anche le nostre abitudini alimentari se pensiamo che ad esempio consumiamo tanti pasti fuori di casa per cui è un aspetto legato sicuramente al vivere nelle grandi città per citare anche qualche percentuale se noi dobbiamo soddisfare questo ampio bisogno alimentare con un fabbisogno che appunto sta aumentando sappiamo già abbiamo già un numero in mente cioè per passare da 7 e mezzo a 10 miliardi di persone il fabbisogno alimentare aumenterà del 70% da qui al 2050 così come anche l'utilizzo d'acqua aumenterà del 30% quindi ci rendiamo conto che dobbiamo sicuramente far qualcosa dobbiamo rispondere a delle nuove esigenze sia di domanda che di offerta in sintesi dobbiamo produrre di più ma dobbiamo produrre con una maggiore qualità in un contesto poi sostenibile perché comunque dobbiamo salvaguardare le risorse scarse che abbiamo sicuramente veramente è un problema non di facile definizione quello del settore agroalimentare perché come detto non solo c'è la questione della popolazione mondiale che continua a crescere che in qualche modo dovrà essere alimentata ma poi sul settore dell'agroalimentare mi riferisco naturalmente sempre alla stretta cronaca all'attualità ci sono altri fattori che hanno inciso abbiamo visto tutti la crisi del grano scatenata proprio dal conflitto internazionale che ha messo appunto in grave difficoltà il rifornimento ecco non solo in paesi come l'Europa ma soprattutto in paesi più deboli più poveri come l'Africa e l'India lo sappiamo questo è un mondo globalizzato dove tutto è interconnesso e poi anche il problema ambientale o meglio quello meteorologico del clima con la siccità che rovina i raccolti e quindi ecco tutti questi fattori incidono negativamente in questo momento su un settore che invece è determinante abbiamo parlato e continueremo poi a parlarne dell'agroalimentare ci spostiamo invece sulla questione della tecnologia l'abbiamo accennata prima ovviamente con tutte le innovazioni le rivoluzioni che si profilano all'orizzonte legate appunto al metaverso però ecco concentriamoci in questo momento proprio sul settore tecnologico che è stato un grande driver assolutamente per quanto riguarda l'economia intera in questi ultimi anni soprattutto durante il periodo pandemico in cui l'utilizzo della tecnologia a causa di forza maggiore è letteralmente esploso però attenzione perché se da un lato appunto si registra questa enorme crescita dall'altro ci sono anche delle complessità legate alla tecnologia mi riferisco in particolar modo alla crisi produttiva dei chip che va ad influenzare tanti settori ad esempio quello dell'automotive soprattutto la Germania ha accusato ecco questa crisi di produzione dei microchip e delle materie prime legate soprattutto il rame ecco quindi dottora Righi le chiedo se considerata insomma tutta questa parentesi e questa introduzione che ho fatto rispetto all'argomento il settore tecnologico è ancora in espansione oppure per i prossimi anni dobbiamo prospettare un rallentamento siamo solo all'inizio quindi dobbiamo cambiare la scala di valori chiedo scusa perché in realtà siamo in una fase di rivoluzione industriale la 4.0 che è partita nel 2015 che si basa proprio sulla digitalizzazione delle aziende faccio una parentesi per tornare al grado alimentare perché mentre parlava Antonio mi è venuta in mente una notizia di qualche settimana fa che Israele è stato il primo paese al mondo a creare il sistema di trasformare l'acqua di mare in acqua potabile e quindi sarà totalmente autonoma e autosufficiente sulla fornitura di acqua potabile al proprio paese e questa è una rivoluzione tecnologica barra agroalimentare e si vediamo poi alla fine come i vari settori in realtà si intersecano tra di loro oggi l'approccio che noi vediamo al mondo della tecnologia non è la tecnologia come punto d'arrivo ma è la tecnologia come mezzo di trasformazione quindi oggi bisogna considerare che a livello industriale sfruttiamo solo l'un per cento dei dati prodotti quindi l'efficienza di produttività e di conseguenza il miglioramento della redditività dell'azienda passa dal digital quindi passa dalla capacità di stoccare utilizzare e sfruttare dati questo vuol dire che oggi si punta non tanto sui famosi FAANG anche se a livello di investimento di ritorno sembrano più immediati credo che riceviamo tutti sui cellulari le pubblicità di investire in Amazon per guadagnare il 40% arrivano degli SMS che sarebbero da dichiararsi da denuncia a Consob detto questo oggi quello che è importante è il fatto che la macchina sbaglia meno dell'uomo 5 volte meno in termini di errori nell'attività produttiva e quindi bisogna andare a puntare su quelle aziende che stanno utilizzando l'automazione l'intelligenza artificiale i big data i cloud quindi la capacità di stoccare e di gestire i dati al posto dell'uomo quindi rivalorizzare e riqualificare diciamo la forza lavoro umana e rendere più efficienti i sistemi produttivi e la filiera produttiva in modo che l'azienda sia assolutamente più capace di rispondere ai cambiamenti quindi non stiamo parlando del faccio una piccola provocazione ma quando si parla di Netflix Amazon Google Tesla non sono aziende tecnologiche sono aziende che forniscono servizi o beni uno produce le macchine l'altra è una piattaforma di acquisto di e-commerce e così via mentre invece se io vado a individuare quali sono i leader mondiali nella gestione dei cloud basta pensare che vent'anni fa IBM era il leader mondiale dei server oggi IBM ha venduto la filiera diciamo domestica privata con Lenovo che ha comprato i computer portatili e oggi IBM è leader mondiale nella produzione di computer quantistici quindi siamo a un livello diciamo di evoluzione e di innovazione estremo nell'ambito tecnologico quindi oggi non è capire se la filiera è cara oppure no ma capire che non possiamo fare a meno diventerà diventerà un tema trasversale in termini di settori di attività non voglio fare un caso personale ma io ho mio cugino che è stato chiamato per fare la rivoluzione digitale in un'azienda di un settore tradizionale della nautica cioè produttore di barche che vuole fare la transizione digitale e quindi se si arriva anche in settori tradizionali come la nautica a parlare di tecnologia e di trasformazione digitale vuol dire che ormai è qualcosa che è diffuso e la consapevolezza della necessità di essere presenti come sull'idrogeno anche sulla tecnologia è fondamentale chiaro insomma la rivoluzione digitale sta veramente interessando tutti i settori abbiamo detto appunto dalla nautica poi all'agroalimentare e io voglio tornare ecco con il dottor Volpe proprio sulla questione dell'agroalimentare perché ne abbiamo parlato ecco rispetto naturalmente anche al conflitto e vediamo poi noi consumatori tutti i giorni ecco quanto i prezzi delle materie prime agricole siano aumentate e noi facciamo i conti quotidianamente quando andiamo semplicemente a fare la spesa non solo mi riferisco al costo del pane e della pasta legato naturalmente alla crisi del grano ma anche ad esempio di frutta e verdura con prezzi che addirittura sono triplicati quadruplicati e in questo c'è naturalmente anche un fenomeno speculativo ecco come si esce da questa situazione ma allora diciamo che questo fenomeno ha sicuramente una componente speculativa quindi probabilmente è anche un fenomeno un po' di breve termine che è quello che poi tutti ci ci auguriamo detto ciò direi che il settore agroalimentare non può che reagire reagire a quelle esigenze che abbiamo descritto prima vorrei portare un po' di esempi perché giusto per dare concretezza anche a quello che stiamo dicendo e poi ritorno anche un po' a Alessandro a quello che aveva detto lui sul primo esempio che riguarda un po' l'agricoltura intelligente che cosa significa significa utilizzare tecnologia in ambito agroalimentare ad esempio oggi noi possiamo diffondere su un campo i disturbanti in maniera intelligente capendo esattamente dove ci sono le piante infestanti sull'intero campo quindi questo significa che rispetto al passato dove il disturbante lo andava a distribuire su tutto il campo non potendo riuscire a capire dove erano le piante infestanti oggi mi limito solo a quelle porzioni di terreno quindi questo significa utilizzare l'intelligenza artificiale in ambito agroalimentare significa poi si traduce in aumento della produzione ma anche aumento della qualità di ciò che produco perché appunto lo produco usando meno materiale tossico il secondo esempio è l'esempio invece dell'agricoltura idroponica cioè noi in ambito agricolo sappiamo benissimo che i due grandi fattori di produzione sono la terra e l'acqua si può produrre senza uno di questi due fattori quindi ad esempio possiamo fare a meno della terra e usare solamente l'acqua assolutamente sì e c'è questo esempio di agricoltura idroponica quindi coltivare alcuni tipi di piante per carità non tutte utilizzando anzi riutilizzando anche più volte l'acqua in assenza completa di terra quindi la tecnologia ci torna sicuramente di supporto anche in ambito agricolo e in generale nel settore agroalimentare e questi esempi secondo me sono la chiara dimostrazione dove tutti questi mondi un po' si intrecciano sì assolutamente anche questi sono in realtà gli aspetti positivi appunto dell'intelligenza artificiale che in qualche caso viene un po' demonizzata c'è comunque una paura nei confronti di questa espansione evoluzione tecnologica perché si dice chissà ecco nel futuro appunto l'intelligenza artificiale potrà replicare sostituire completamente l'attività umana mentre con il suo discorso il suo ragionamento dottor Volpe ecco lei ci aiuta in realtà a vederla sotto un'altra prospettiva quella di aiutare l'attività umana non sostituirla ma migliorarne anche le performance dal punto di vista economico e non solo a proposito di tecnologia e di evoluzione parliamo appunto con il dottor Arrighi di metaverso l'abbiamo detto un termine che ormai sulla bocca di tutti anche se in pochi in realtà sanno veramente di che cosa si tratta e questo non semplicemente per un problema di disinformazione ma anche perché non è ancora chiarissimo agli stessi creatori del metaverso di che cosa sia questa nuova realtà possiamo definirla realtà virtuale anche se dentro ci potrebbe essere la realtà aumentata gli NFT le criptovalute insomma un mondo estremamente complesso sicuramente però il metaverso o i metaversi questo ce lo spiegherà lei già esistono e le chiedo innanzitutto quali attività possono essere svolte all'interno di questi mondi non solo dal punto di vista delle aziende ma anche del consumatore oggi la prima interfaccia che abbiamo col metaverso è quello del gioco del gaming e quindi molti si limitano a vedere nel metaverso un universo di scambio sociale dove attraverso gli avatar ci si incontra e si gioca alle varie piattaforme che tutti gli adolescenti oggi hanno a disposizione e quello è solo un aspetto di un mondo quindi chiamiamolo parallelo che ha più piattaforme di sviluppo ma soprattutto che noi vediamo come nell'applicativo industriale produttivo per esempio si considera che nelle fasi di progettazione industriale si riscontrano il 70% degli errori quindi la possibilità di trasferirsi su un universo dove tutti gli attori e i componenti intervengono in tempo reale sugli stessi dati quindi non ti passo più il file Excel l'ultima versione del progetto in AutoCAD piuttosto che in qualche formato che potrebbe anche essere perso prendersi un virus piuttosto che essere salvato male sto ovviamente un po' caricaturando il concetto interveniamo in fase di progettazione tutti sugli stessi dati Boeing sta progettando il nuovo aereo sul metaverso proprio perché a livello industriale c'è la capacità di avere una visualizzazione concreta del prodotto finito e eventualmente anche dei test virtuali che permettono di capire l'impatto l'efficienza e la qualità della futura produzione ci sono tanti aspetti che abbiamo visto anche che abbiamo provato che possiamo provare noi direttamente la formazione la formazione online sempre con il concetto di rappresentazione virtuale di se stessi creare delle aule formative dove viene c'è un'interazione attraverso gli avatar c'è il mondo della ricerca della salute oggi stiamo ragionando dare la capacità a dei medici a un chirurgo di operare con la realtà aumentata a migliaia di chilometri un paziente in una sala operatoria con l'uso di macchinare in modo totalmente automatizzato robotizzato abbiamo visto il mondo stiamo parlando del lusso Gucci ha un negozio virtuale su Roblox che ha 20 milioni di utenti unici divisatori unici persone che arrivano provano virtualmente il capo piuttosto che e l'acquistano ci sono altri brand che hanno creato delle linee di vestiti per gli avatar delle piattaforme di gioco quindi qualcosa che non verrà mai portato ci sono persone che hanno speso più in oggetti virtuali di quanto valgono nella vita reale quindi anche lì poi ci potrebbe essere una deriva bisogna parlare a livello sociale psicologico sull'impatti di magari essere troppo coinvolti da questo nuovo mondo ma sicuramente a livello economico a livello di opportunità di business e a livello anche di sviluppo per le aziende oggi il metaverso diventa un ambito dove si può provare dove si può progettare dove si può verificare la qualità e la bontà di un progetto di un'idea prima di renderla effettiva in termini produttivi quindi diciamo di economia reale è un grande laboratorio di sperimentazione tecnologica permette di sbagliare più volte cancellare e ripartire senza grosse conseguenze a livello economico anche per le aziende chiarissimo ecco un laboratorio dicevo che però ancora in fase embrionale perché ancora non abbiamo una tecnologia che ci supporta a tal punto da riprodurre ad esempio le sensazioni ecco a livello tattile a livello appunto dell'olfatto quello sarebbe diciamo il massimo dal punto di vista dell'esperienza umana ma dicono che in realtà ci arriveremo progressivamente so anche di aziende che stanno addirittura creando una pelle proprio per il metaverso i giapponesi in termini di robotica e di rappresentazione umana della robotica io che sono un po' vecchio mi spaventa di vedere la capacità di riprodurre a livello morfologico le espressioni e quindi anche rendere umano qualcosa che non lo è ci penseranno le prossime generazioni assolutamente sì noi mi sa che non ce la faremo a vedere esatto quel tipo di orizzonte sicuramente la questione etica comunque legata al metaverso ai mondi virtuali c'è e non va non va dimenticata anzi va sottolineata c'è un utilizzo anche insomma cosciente che dobbiamo fare del metaverso poi lei ha accenato la questione dell'economia del metaverso l'approfondiremo al termine della puntata adesso torno dal dottor Volpe per chiudere invece la parentesi dedicata appunto al food che sicuramente lo abbiamo detto sarà un comparto che la farà da padrone nei prossimi anni ma ecco mi voglio concentrare soprattutto sul processo di selezione di investimento di questo comparto ecco che cosa regola nella scelta Mondi ma anche qui come nel caso dell'idrogeno non ci dobbiamo limitare ai produttori e quindi solo a un pezzo della filiera agroalimentare quindi prima abbiamo fatto degli esempi soprattutto lato produzione abbiamo parlato di agricoltura etroponica agricoltura intelligente però appunto investire nella filiera significa investire anche in altre due dimensioni che sono la dimensione della distribuzione e nella distribuzione noi abbiamo ancora tanto da fare se solo pensiamo al packaging utilizzato oggi tanto packaging ancora fatto da multimateriale per cui significa che dobbiamo investire in quelle società invece molto attenti e sensibili anche alla sostenibilità e quindi al packaging sostenibile magari fatto con un unico materiale facilmente riciclabile e poi la terza dimensione è quella ancora una volta degli utilizzatori e chi sono gli utilizzatori? gli utilizzatori ovviamente siamo noi consumatori ma possiamo pensare a tutto il mondo della ristorazione la ristorazione negli ultimi 20 anni è cambiata tantissimo avevamo detto prima viviamo in grossi agglomerati urbani questo ci porta spesso a consumare i nostri pasti all'esterno e quindi c'è stata una vera e propria esplosione della ristorazione e tra l'altro esplosione della ristorazione anche nel periodo covid che uno dice no ma in periodo covid eravamo tutti chiusi in casa sì ma tutti quanti noi abbiamo utilizzato delle piattaforme per farci portare il cibo la cena il pranzo a casa per cui anche lì abbiamo utilizzato delle forme nuove che fanno parte sempre di questa filiera agroalimentare quindi in estrema sintesi come si investe? si investe tenendo conto di tanti ambiti produzione distribuzione utilizzatori solo così si arriva ancora una volta su un universo investibile molto ampio e ben diversificato in estrema sintesi il settore agroalimentare c'è bisogno sì di maggiore produzione di maggiore qualità ma coniugata sempre con la sostenibilità il che non è un'equazione semplice chiarissimo ecco io appunto torno invece appunto sull'economia del metaverso l'abbiamo abbiamo fatto un accenno insomma in precedenza e lei dottor Arrighi ha spiegato come in realtà l'utilizzo della valuta digitale delle criptovalute sia già in uso ecco tra chi appunto all'interno del metaverso lo sta già esplorando tanto che ci sono degli utenti che appunto comprano i vestiti per il loro avatar e anche ad esempio comprano terreni all'interno del metaverso so che il settore immobiliare sicuramente è uno dei maggiori in espansione ma le chiedo ecco questo è già il momento di investire nel metaverso oppure stiamo un po' troppo precorrendo i tempi beh allora da parte dei nostri gestori sicuramente c'è un fenomeno di moda che è sulla novità sul fatto anche di scollegarsi un po' dal mondo reale e quindi di poter in qualche modo dare vita a tutta la fantasia e anche la fantascienza che ovviamente ci ha accompagnato attraverso tutto il mondo diciamo media visivo penso a tutti i film di fantascienza che abbiamo visto e che hanno in qualche modo scusi se la interrompo però ci tengo a questo punto nel senso che lei ha citato appunto la cinematografia tra scienza e fantascienza qual è secondo lei ecco la pellicola il film che ci dà più informazioni su quello che potrà diventare il metaverso diciamo il più realistico perché si cita spesso Matrix ad esempio beh Matrix sarebbe il punto d'arrivo della macchina che sfrutta l'uomo ma ci sono state diverse pellicole che hanno in qualche modo mostrato come si potesse o manipolare il tempo ma questo credo che ci vorrà ancora un po' di anni o forse secoli ma soprattutto come si poteva muovere da una dimensione all'altra proprio per cercare di modificare il corso del tempo questo penso sia una fantasia da sempre da parte anche di scienziati e di sognatori tornando proprio al discorso dei sognatori credo che l'industria dell'asset manager sia abbastanza d'accordo sul fatto che è ancora presto per il concetto di criptovalute sicuramente si arriverà si arriva alla digitalizzazione delle valute e questo ormai credo che sia un dato di fatto basta vedere oggi qual è il piano del sistema finanziario svizzero le banche svizzera e il sistema finanziario svizzero è molto avanti nella digitalizzazione del proprio sistema e quindi dell'andare a parlare di moneta virtuale elettronica e non più solo di moneta cartacea e questo sarà il passo ufficiale dell'inizio di qualcosa che deve essere regolamentato che deve essere inquadrato e che non può essere dato solo diciamo alla merce delle blockchain cioè oggi le criptovalute stanno prendendo un piede ma bisogna sempre ricordare che partono come progetti di finanziamento quasi di private equity quindi io sfido qualsiasi giovane ad aver letto un minimo una singola pagina di quello che sta sottostante all'emissione di una criptovaluta perché all'inizio nasce come forma di finanziamento di un progetto quasi un crowdfunding mentre invece adesso è diventato solo speculazione abbiamo visto negli ultimi tre mesi durante l'estate cosa vuol dire anche quando arriva il rovescio della medaglia e quando molte falliscano perché effettivamente sottostante non c'è niente quindi ci sono molti gestori molte società di gestione che in qualche modo stanno cercando di avvicinarsi al concetto anche con con delle partnership delle venture capital sono dei nomi importanti che stanno sposando delle collaborazioni con delle piattaforme di accesso alle criptovalute che è diverso da non promuovere la singola criptovaluta quindi non ne potremo fare a meno abbiamo casi di giovani che sono diventati milionari attraverso le criptovalute che non vogliono però uscire da quel mondo cioè non vogliono rendere concreto i risultati ottenuti virtualmente sulla vecchia scuola è un pericolo potresti vedere scomparire quello che è stato forse figlio di una previsione di una fortuna o di una pianificazione quindi è un mondo in divenire dobbiamo tenerne conto sia a livello industriale sul metaverso sia a livello di forme di finanziamento o nuove forme di scambi valutari il vero passo sarà quando le banche centrali emetteranno la loro moneta digitale dando una regola di ingaggio e una valorizzazione del sottostante ecco sì diciamo però che non è forse ecco in questo momento l'obiettivo principale delle banche centrali hanno altri pensieri in questo momento sull'aumento o meno esatto del costo del denaro però volevo tornare sulle sue parole importanti ovvero non ne potremo fare a meno dice in futuro sicuramente della valuta digitale delle criptovalute però io sfido a sapere quanti ragazzi in realtà sanno dell'argomento lo conoscono questo a sottolineare l'importanza di un'educazione finanziaria tra l'altro siamo ancora nel mese di ottobre che è proprio il mese dell'educazione finanziaria e quanto ne abbiamo bisogno in Italia e non mi riferisco solamente alla popolazione più giovane ma in generale siamo addirittura negli ultimi posti della classifica europea per quanto riguarda le nostre competenze in materia economica in materia finanziaria ovviamente ecco ed è fa un po' specie questa cosa perché si tratta dei nostri risparmi anche dei nostri soldi ma molto spesso non sappiamo bene come investirli quindi sicuramente se vogliamo aggiungere una parola chiave a tutto quello che abbiamo detto oltre alla compenetrazione tra i settori io direi che l'educazione è davvero fondamentale se volete concludere con una vostra riflessione questa tavola rotonda partiamo dalla dottor Volpi io sono assolutamente d'accordo purtroppo di formazione ce n'è ancora poca partirei soprattutto dalle nuove generazioni che sono che sono quelle anche se vogliamo in generale più sensibili ad ascoltare e quindi ad imparare poi i giovani sono il nostro futuro quindi inevitabilmente dobbiamo puntare molto proprio sulle nuove generazioni dottor Arichi chiosa finale con lusso parlavamo di lussuria se torniamo ai sette peccati capitali l'ingordigia è un altro fenomeno che in qualche modo compromette le attesi di rendimento e a volte fa sì che non ci si ferma nella diciamo cultura educazione e consapevolezza di quello che viene fatto i giovani hanno una velocità di esecuzione esponenziale sono sicuramente il motore necessario a dar vita e continuità a tutti i temi di cui abbiamo parlato bisogna accompagnarli non solo bisogna fare questa transizione anche con le nuove generazioni per assicurare il futuro di tutti è una transizione quindi non solo ecologica ma anche una transizione culturale che riguarda appunto le nuove generazioni educativa sicuramente io ringrazio i miei ospiti per il loro interessante contributo in questa tavola rotonda grazie ad Antonio Volpe Head of External Distribution a Mundi e grazie ad Alessandro Arrighi Head of Retail Distributors Italy Gam grazie davvero per essere stati con grazie grazie a tutti e si conclude dunque questa tavola rotonda della Asset Management TV Week ma la settimana dedicata appunto al risparmio gestito continua sulle fonti TV io vi ricordo naturalmente sempre in diretta domani alle 12 l'appuntamento con la tavola rotonda dedicata agli investimenti e ai consumi delle nuove generazioni ne abbiamo appunto parlato proprio in chiusura oggi e poi venerdì gran finale con la tavola rotonda dedicata ai certificati di investimento grazie per averci seguito e mi raccomando restate con noi perché la programmazione di Le Fonti TV continua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti